Gli operatori portuali di Gela non ne possono più di vedere quel porto rifugio insabbiato. Tante le promesse, ma la situazione non cambia. I soldi ci sono per procedere al recupero della struttura, ma tutto è fermo. L'Eni, lo scorso 27 settembre, ha messo a disposizione 5 milioni e 600 mila euro prelevandoli dai fondi di compensazione destinati a Gela, così come previsto nel protocollo siglato il 6 novembre del 2014 per la riconversione della raffineria, ma dopo l'annuncio in Pompamagna rimane tutto paralizzato. Il pescaggio si è ridotto notevolmente, siamo al di sotto di un metro e il maltempo degli ultimi giorni ha peggiorato una situazione che oramai è ai limiti del grottesco. L'unica speranza è che non succeda nulla di serio a mare, perché la situazione è davvero grave. I mezzi antincendio non possono più uscire dal porto e parte del portoisola è oramai interdetto. I mezzi antinquinamento, barcaioli e piloti partono dal porto di Licata. Insomma, una situazione insostenibile anche per i pescatori che tra qualche giorno non potranno più andare a lavorare. In tutto questo si evidenzia la lentezza burocratica che non ha ancora dato il via libera ai lavori di dragaggio. Attualmente tutto giace al Ministero dell'Ambiente dove lo scorso 2 dicembre la Protezione Civile regionale ha inviato i documenti per ottenere il parere e la valutazione del piano di caratterizzazione e si è in attesa che l'apposita commissione ministeriale si riunisca per emettere il parere. Il comitato del porto del Golfo di Gela, preseduto da Massimo Rivoti, si appella adesso alla deputazione nazionale. Gli esponenti del comitato hanno deciso di giocarsi la carta dell'intercessione della deputazione missena inviando la lettera agli onorevoli Azzurra Cancelleri, Daniela Cardinale e Alessandro Pagano per chiedere loro di intervenire presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente. Al fine di sollecitare la procedura di valutazione e approvazione del piano di caratterizzazione ambientale propedeutico al progetto di dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del porto rifugio di Gela. A Natale avevano invece inviato una lettera in maniera provocatoria a Santa Claus. Caro Babbo Natale, per quest'anno avevano scritto «Volevamo chiederti di aiutarci a concretizzare un nostro sogno, quello di avere un porto funzionale, visto che la politica non riesce a risolvere i problemi. È considerato che la burocrazia li è grava con i suoi ritardi. I rappresentanti del comitato hanno chiesto in particolare a Babbo Natale che illumini l'illustre concittadino, nonché presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, perché si impegni ancora di più al fine di concludere le procedure burocratiche volte all'avvio dei lavori nel porto di Gela. Il loro ospicio è che per la stagione estiva 2017 il nostro porto possa essere già nelle condizioni ottimali per la sua regolare funzionalità. Ma Natale è passato e Santa Claus non ha esaudito il desiderio.